La Polizia di Stato, in occasione della partenza per le vacanze estive di milioni di italiani, illustra i principali consigli da seguire in viaggio prima e durante la guida verso mete di mare o di montagna. È buona norma richiedere informazioni circa la viabilità su strade e autostrade prima di mettersi al volante e assicurare tutti coloro che viaggiano a bordo dell'autovettura con le cinture di sicurezza. Se si tratta di bambini, proteggerli sempre con gli appositi seggiolini o sedili di sicurezza omologati. Se invece si è alla guida di motoveicoli e ciclomotori, indossare sempre il casco protettivo ben allacciato. Durante il viaggio verso i luoghi di villeggiatura bisogna mantenere una guida prudente e corretta rispettando le norme di buon comportamento e i limiti di velocità in considerazione delle condizioni atmosferiche della strada e del traffico. La Polizia ricorda inoltre di osservare rigorosamente le distanze di sicurezza ed utilizzare il cellulare con auricolare o Bluetooth. L'estate è cominciata e in molti stanno già scaldando i motori per andare in vacanza. La voglia di mare e di montagna però non deve farci dimenticare i consigli della Polizia di Stato per arrivare sicuri a destinazione. Innanzitutto accertiamoci che il mezzo con cui partiamo sia in condizioni di viaggiare. Oltre alla revisione, pianifichiamo anche un check-up completo dal meccanico per verificare che tutte le componenti, soprattutto gli pneumatici, siano efficienti. Ricordiamoci di gonfiare anche la ruota di scorta. Quando facciamo una pausa in area di servizio ricordiamoci di verificare sempre che le portiere e i finestrini siano chiusi anche quando usiamo il telecomando a distanza. Ricordiamoci poi di non lasciare in bella vista oggetti di valore come borse, tablet o computer. Mettiamoci alla guida solo se non siamo stanchi e dopo non aver mangiato troppo. In questo modo riusciremo a scongiurare un colpo di sonno. A proposito, per rimanere lucidi e recuperare energie è bene fare una sosta ogni due ore circa o anche meno se ne sentiamo il bisogno. Attenzione ai bagagli. Sistemiamoli in modo da non compromettere la visibilità del conducente o la stabilità del veicolo. Ricordiamoci poi di non seppellire il triangolo o il giubbotto rifrangente sotto montagne di zaini, valigie e ombrelloni. In caso di imprevisto o di pericolo sono i nostri migliori alleati. Guidiamo con prudenza, guardando sempre davanti e senza distrarsi. Forse arriveremo qualche minuto dopo ma le vacanze sono sempre lì ad aspettarci. Buon viaggio con la Polizia di Stato.